Siamo qui al termine della prima fase, la parte plenaria della nona conferenza regionale per la scuola che dà l'avvio appunto al nuovo anno scolastico insieme a tutti gli attori istituzionali e nonne che nella scuola vivono e quindi insieme anche agli insegnanti e alle associazioni che partecipano appunto attivamente al mondo della scuola. Si è parlato di molti temi, in particolare del ruolo importante dell'università ma soprattutto della programmazione, cioè la capacità da parte degli enti superiori come appunto la regione, città metropolitana ma anche i comuni di saper programmare perché spesso le risorse non vengono poi gestite in modo così efficace per il mondo della scuola. I migranti narrano, future lab, metodologie per incontrare il futuro, insegnanti, genitori, insieme si può. Questi sono alcuni titoli dei workshop svoltisi nel pomeriggio nella sede di Via Gaudenzio Ferrari del Cesedi e del Perché Laboratorio delle Curiosità. I temi sono diversi e coinvolgono direttamente insegnanti e associazioni in attività che possono essere riproposte a scuola con gli allievi. A Palazzo Cisterna è invece la matematica che tiene banco con il workshop dal titolo allusivo La Matematica in Gioco. Alcuni dei workshop di oggi sono riproposti nel catalogo Cesedi per la scuola Formazione degli Insegnanti. Da parte nostra che cosa fa la città metropolitana? Stiamo progettando qualcosa che riguarda in particolare la nostra vocazione. Una delle nostre grandi vocazioni è il tema sull'ambiente e stiamo cercando di lavorare affinché questo tema possa essere sviluppato partendo da competenze del nostro ente e affiancando dei ragazzi dell'università che lavoreranno insieme ai più giovani dal punto di vista comunicativo, partendo però anche dal nostro territorio. Quindi proprio dalle problematiche che sono nate nella Valle di Susa, in particolare in questo ultimo anno. Perché? Perché noi pensiamo che il rapporto con il territorio dei nostri giovani sia fondamentale proprio perché si devono innamorare di nuovo del loro territorio ma anche perché partecipano attivamente alla vita dell'ambiente nel quale vivono.